Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, eccoci qui per un'altra serata interessantissima perché questa sera avremo con noi, abbiamo con noi anzi, Amerigo Varotti, il direttore di ConfCommercio. Buonasera. Amerigo, è finito il 2022, già da un mese ormai siamo nel 2023, tante cose ci siamo viste alla fine dell'anno scorso, in questi due o tre mesi sono cambiate alcune cose, soprattutto anche a livello di una congiuntura economica che poteva sembrare tendere al meglio, invece per un insieme di motivi si può dire che questo 2023 è iniziato peggio di come avevamo finito il 2022. Sì, il 2022 è stato un anno molto difficile per le imprese e le famiglie italiane, la causa di tutto è innanzitutto la grande speculazione che sul fronte delle bollette energetiche, sul prezzo del gas e dell'energia elettrica, le grandi compagnie, i grandi player dell'energia italiana hanno commesso. Speculazione che ha impoverito le famiglie, ha messo in difficoltà i bilanci delle imprese, costretto molte aziende anche a chiudere i battenti oppure a anticipare la chiusura per le aziende stagionali. Purtroppo accanto a questa speculazione c'è stato anche l'aumento del costo del denaro stabilito dalla BCE che ha anche questo, un poverito ulteriormente imprese e famiglie con l'aumento delle rate dei mutui e l'aumento quindi del costo del denaro e quindi il 2022 si è chiuso da una parte positivamente, penso al turismo per quanto riguarda il numero delle presenze turistiche, ma negativamente per quanto riguarda i bilanci delle imprese. Il 2023 sul quale noi nutriamo molte speranze, in realtà si è aperto con un'ulteriore speculazione da parte dei soliti noti, penso al prezzo del gasolio, inalterato il prezzo del gas e dell'energia elettrica per il momento e il prezzo del gasolio che è andato alle stelle, benzina e gasolio e questo è ancora più strano perché se consideriamo che il prezzo del petrolio ha raggiunto i minimi storici e quindi cala il prezzo del petrolio ma aumenta il prezzo del diesel o della benzina e questo perché? Perché in Italia ci sono 5 raffinatori, tra cui Leni, che fanno il bello e il cattivo tempo e il governo invece che tarpare le ali a questi signori che speculano sulla pelle delle imprese e delle famiglie, si sono inventati il cartello del prezzo medio regionale per i distributori di benzina, così incolpando i distributori che non hanno alcuna colpa dell'aumento del prezzo dei carburanti. Un brutto segnale dato al Paese, un brutto segnale dato alle imprese del settore, tant'è che avevano preannunciato, poi dopo ci sono state modifiche legislative, uno sciopero nazionale. Se non ci saranno seri provvedimenti sul fronte della speculazione, lo ripeto perché è solo speculazione da parte di chi ha fatto e sta facendo grandi utili, extra profitti inaccettabili in un Paese che soffre, però vedo che l'amministratore Deleni continua a viaggiare con la Presidente del Consiglio in mezzo mondo, evidentemente per loro va tutto bene. Se non ci saranno provvedimenti contro la speculazione, credo che sarà anche questo un anno purtroppo molto difficile, a fronte di, ripeto, speranze che noi abbiamo soprattutto sul fronte del turismo. Confcommercio chiaramente c'ha il polso della situazione, le imprese della nostra provincia hanno cominciato questo 2023, più o meno come avevano finito il 2022. La salute proprio in generale dell'economia della provincia di Piesel Urbino, Amerigo, ti sembra comunque abbastanza buona? Possiamo essere ottimisti o anche in virtù di quello che tu hai detto poco fa, comunque c'è davvero da tenere molta molto alta l'attenzione? No, no, bisogna tenere molto alta l'attenzione. Nel 2022 c'è stato nella provincia di Piesel Urbino un calo di imprese, non abbiamo i dati definitivi di dicembre perché quelli ci saranno dopo il 31 di gennaio, perché le aziende hanno 30 giorni di tempo per comunicare l'eventuale cessazione dell'attività. Ma il dato di novembre è preoccupante, 235 aziende nel settore agricolo hanno chiuso, 253 imprese nel settore commerciale hanno chiuso, per la prima volta anche nel settore della ristorazione c'è stato un calo di imprese del settore, tutte le aziende del manifatturiero sono in calo, l'export della nostra regione al 30 settembre, questo è l'altro settembre, ha perso il 19% e quindi i dati di chiusura dell'anno non sono assolutamente positivi. Mi pare che proprio in questi giorni il Presidente della Camera di Commercio Sabatini abbia fatto un comunicato preoccupato sulla cessazione di molte imprese nella nostra regione, quindi dobbiamo essere molto attenti e soprattutto richiedere da parte delle istituzioni quell'attenzione al mondo produttivo che mi pare non ci sia stata, prima con il governo Draghi, una dichiarazione mia personale per fortuna se n'è andato e adesso speriamo che il governo Meloni faccia molta attenzione insomma al mondo dell'impresa. Certo, anche perché poi leggiamo in questi giorni sui giornali che le Marche sono una regione fra le predilette italiane per chi vuole comprare, chi vuole venire nelle Marche per esempio a vivere, gli americani stanno scoprendo la nostra regione, certo che se si vendono le case, magari si vendono i poderi, si cerca di far sì che il nostro territorio sia appetibile per gli stanieri e poi dopo ci sono problematiche legate all'economia, chiaramente questo è un qualcosa che cozza. Sì, le Marche sono una regione straordinaria, io ricordo diversi anni fa il Wall Street Journal, prestigioso giornale statunitense, dichiarò le Marche, mise le Marche come le 5 mete nel mondo di qualità, dove passare la vita per gli americani della terza età, perché c'è la qualità della vita, perché il clima è tutto sommato interessante tutto l'anno, la sanità buona, prodotti tipici di qualità, eccetera. In effetti molti stranieri stanno acquistando nella nostra provincia e nella nostra regione, gli americani certo, ma anche gli inglesi, gli olandesi, tedeschi, perché le qualità ci sono, la bellezza che noi diciamo, la bellezza c'è. Bisogna però stare molto attenti, noi abbiamo chiesto all'inizio dell'anno, abbiamo ripetuto una richiesta che facciamo da anni, una fiscalità di vantaggio per le imprese, per le botteghe nei piccoli borghi, perché se continuano a chiudere le botteghe, se continuano a chiudere i negozi, noi daremo anche agli stranieri che acquistano nei nostri borghi città morte, città vuote, città desertificate e a lungo andare questo, oltre che a creare problemi per i residenti, soprattutto per quelli che hanno maggiori difficoltà, penso agli anziani, daremo l'immagine di paesi morti e quindi anche questo percorso che adesso è virtuoso, di tanti stranieri che vogliono acquistare nella nostra regione potrebbe fermarsi, ma soprattutto la fiscalità di vantaggio per le zone montane e collinari serve per non fare morire i nostri territori, c'è una richiesta che ha fatto la Commercio Nazionale che noi ribadiamo con forza, c'è un'attenzione maggiore anche da parte della politica, penso ad esempio nella nostra provincia il Presidente Peppino Paolini che già più volte ha ribadito questo concetto della fiscalità di vantaggio per le botteghe di vicinato e quindi su questo insieme con una seria tassazione per il commercio online, soprattutto quello determinato dai grandi player internazionali dell'e-commerce, ma anche una tassazione seria per quanto riguarda i grandi colossi del turismo online, è stata recentemente, proprio a dicembre, una sentenza della Corte di Giustizia europea che ha condannato Airbnb a pagare le tasse come dovrebbero essere pagate, aspettiamo che in Italia si recepisca questa norma, perché attualmente Airbnb paga di tasse in Italia allo 0,5%, questa è concorrenza sleale nei confronti del mondo alberghiero, del mondo del turismo e soprattutto vengono a mancare alle casse dello Stato tanti soldi che potrebbero servire ad esempio per una fiscalità di vantaggio per i borghi, cosa che è essenziale, altrimenti qui abbiamo la spogliazione dell'entroterra, è ripreso il fenomeno dello spopolamento, accanto alla denatalità c'è anche lo spopolamento causato dal trasferimento dei residenti e soprattutto le coppie più giovani dai borghi, dalle colline alle città. Immaginiamoci per esempio, proprio per fare una citazione, quello che è successo a cavallo fra dicembre e gennaio nella cittadina di Pianello, nel paesino di Pianello sotto il Monte Catria che è stato isolato da Cagli a causa di una frana, si sono ritrovati a vivere una situazione davvero difficile, pensate se non ci fossero stati i negozi di vicinato nel Pianello, la popolazione quali problemi avrebbe avuto nel dover affrontare una situazione così difficile che è stata risolta grazie a una logistica complessa ma soprattutto grazie a questi piccoli negozi, quindi è davvero una cosa molto importante. Questa è essenziale, così come è essenziale che i comuni se la smettano per un piatto di lenticchie, magari per qualche rotatoria, di autorizzare ancora grandi superfici di vendita, nel mese di dicembre si è fermata, per il momento abbiamo bloccato un'iniziativa del Comune di Fano che voleva autorizzare altri 4.500 m2 di grandi superfici di vendita, altri supermercati, altri ipermercati, anche questi frenano i consumi, drenano i consumi, muoiono i centri storici, muoiono i borghi, bisogna che la politica di queste cose incominci a masticarle, perché se muoiono i borghi, se muoiono i paesi, muore l'immagine della nostra regione, muore la collettività, muore la socialità, quindi attenzione, web tax per il commercio online, sperando che gli italiani capiscano che è bene sostenere l'economia delle botteghe di vicinato invece di comprare online. L'altro giorno passavo in un borgo della nostra provincia e nel giro di 50 metri davanti alle porte di casa c'erano due pacchi di una nota, diciamo, un noto distributore di prodotti internazionali, quello che peraltro ha annunciato 13.000 licenziamenti nel mondo. E mi piangeva al cuore pensando che in quel borgo stanno chiudendo tutti i negozi. Davvero, è una questione molto importante e sulla quale riflettere molto. Amerigo, siamo alla vigilia di un appuntamento importante, la Fiera del Turismo e la Bitil a Milano che inizierà fra un paio di settimane. Chiaramente ConfCommercio sarà presente anche lì, nello stand della Regione Marche perché la Regione Marche è appunto un fulcro di quello che può essere un'offerta turistica del nostro territorio nazionale. Beh, noi ovviamente siamo dell'idea che bisogna promuovere unitariamente le Marche perché non ci si può presentare nel mercato del turismo divisi e quindi le Marche sono un brand sicuramente vincente, appetito, che piace per chi lo conosce, per chi lo impara a conoscere. Noi saremo presenti con un'area della nostra Conf Turismo e presenteremo il 13 febbraio alle ore 14 la nuova edizione dell'itinerario della bellezza. Questo progetto vincente che abbiamo realizzato 5 anni fa che quest'anno parte con 21 comuni che hanno aderito alla nostra proposta e la guida sarà un libro di 260 pagine che presenteremo appunto il giorno 13. Il 14 invece alle ore 13.30 presenteremo il primo itinerario regionale di moto turismo, un turismo in grande crescita così come è quello delle bike, delle biciclette, però anche il moto turismo è per noi un segmento molto affascinante considerando la bellezza del nostro territorio e i percorsi che si possono realizzare. Peraltro questo itinerario l'abbiamo realizzato insieme all'Associazione Terra dei Piloti e dei Motori. Quindi è un grosso impegno, ma prima di Milano noi abbiamo altri appuntamenti. Il giorno 6 faremo una serata di promozione con le agenzie di viaggio a Verona, il giorno 7 faremo altrettanto con la città di Bergamo, nella città di Bergamo. Città Bergamo nella quale organizzeremo il primo aprile nell'ambito di una fiera dove noi abbiamo acquisito già uno stand, la fiera si chiama Agri Travel. Il giorno 1 aprile invece faremo il passaggio di consegne tra Bergamo e Brescia, capitale della cultura italiana, 2023 con Pesaro, capitale della cultura 2024. Ci sarà all'interno dello spazio espositivo una conferenza con gli amministratori di Pesaro e gli amministratori della città di Bergamo, con la Confcommercio di Pesaro e la Confcommercio di Bergamo perché poi abbiamo anche intenzione di fare degli scambi promozionali tra Pesaro e Bergamo, così come tra Pesaro e le altre città che sono state o saranno capitali della cultura europea o italiana. Quindi molte iniziative, tra l'altro appena finita la fiera di Milano andremo a Monaco di Baviera dove c'è una fiera molto importante perché il Free di Monaco è una fiera dedicata ai clienti, ai turisti, non alle agenzie, quindi lì si possono fare contratti, si possono fare affari, si fa conoscere il nostro territorio in una zona molto vicina all'Italia, la Baviera è molto vicina all'Italia, i turisti vengono in macchina, quindi è per noi un appuntamento molto importante e poi via via avremo tanti altri appuntamenti durante l'anno. Quindi è davvero un'associazione molto viva, presente, che fa sentire la sua vicinanza alle imprese, ma non solo al territorio, a tutti noi. Un'ultima cosa, Merigo, quindi mancano 11 mesi a questo 2024 in cui inizieremo la capitale della cultura, sarà a Pesaro, si può dire dal gennaio prossimo, ma è un percorso lungo. La tua ricetta, se tu dovessi dire qualcosa, allora come ci prepariamo in questi 11 mesi? Perché sembrano molti, in realtà sono pochissimi. Se pensiamo che è già finito gennaio, il tempo vola. Il tempo vola e bisogna essere attenti. Io ero, nei giorni scorsi, a Madrid, alla fiera del turismo di Madrid, dove era presente Bergamo e Brescia, ma in realtà non avevano niente. Cioè, loro sono già capitale italiana della cultura. Non avevano né un Deppia, né un... niente, avevano il logo, basta. Ecco, bisogna evitare di fare questo, bisogna fare in modo che Pesaro, capitale della cultura, venga divulgato, venga comunicato. Ecco perché noi, anche oggi, incontreremo l'assessore Vimini, assessore della bellezza, per definire una serie di idee che abbiamo sulla comunicazione, sulla promozione di Pesaro, capitale della cultura. Mi pare che Vimini si stia muovendo molto bene, sia con i suoi collaboratori, con la creazione della Fondazione Pescheria, che ancora ha nome Fondazione Pescheria, ma cambierà nome, che curerà tutti gli aspetti di Pesaro, capitale della cultura. Allora, c'è grande interesse. Noi abbiamo alcune idee che vogliamo realizzare quest'anno, in preparazione, che sono legate alla cultura gastronomica, perché anche la gastronomia, la ristorazione è cultura. Quindi quest'anno, ad esempio, noi festeggeremo, in diverse occasioni, i 40 anni dei weekend gastronomici, il nostro evento è legato alla gastronomia, con convegni, conferenze, movimentando i social in maniera innovativa, per questo abbiamo fatto anche un cambio di passo all'interno di ConfCommercio, assumendo nuove persone. Incominceremo, peraltro, il 22 di febbraio, all'Istituto Alberghiero di Pesaro, con la consegna dell'Oscar della ristorazione, il primo Oscar della ristorazione della nostra provincia, ad un noto ristoratore del nostro entroterra. Che non spoileriamo, però, vero? No, lo faremo nei prossimi giorni, ma ha festeggiato da pochi giorni 50 anni di attività, e sarà celebrato, così come faremo una bellissima conferenza con importanti giornalisti gastronomi nazionali, persone che hanno curato le guide di prestigiose riviste, marchi, eccetera. E poi faremo sciocucchi, faremo diverse cose per avvicinarci, così come sul fronte prettamente culturale, visto che Pesaro, capitale della cultura, è la provincia di Pesaro, Urbino, capitale della cultura, quest'anno rifaremo a Gabice Mare turismo in festa, che abbiamo sospeso prima del Covid, ma l'abbiamo realizzato per diverse edizioni, c'è una forte richiesta da parte degli operatori turistici, ma dello stesso comune, di fare questa, di ripetere questa esperienza, che faremo in maniera un po' diversa rispetto al passato, nei mesi di luglio, nei mesi di agosto di quest'anno. Stiamo organizzando alcuni spettacoli dedicati a Rizzo Ortolani, questo pesarese straordinario che ha vinto il Grammy Award per le colonne sonore di alcuni film importantissimi. Anche se adesso la notizia è che il Teatro Rossini sarà chiuso per il ROF, ma quindi sarà chiuso anche per l'eventuale concerto che noi volevamo fare, qualche problema ce lo crea, così come lo sta creando peraltro ai commercianti, ai ristoratori della zona di Piazzale Lazzarini. Quindi noi ci prepariamo con molti eventi, come sempre su tutto il territorio, cioè quello che ha caratterizzato il commercio in questi anni è una presenza diffusa sul territorio provinciale. Non ci interessiamo solo di Fano, di Pesaro, di Gabice Mare, ma la nostra presenza è su tutto il territorio con tante iniziative. E ne abbiamo, adesso potrei parlarne a lungo, ma dopo rimandiamo ad altre occasioni. Avremo occasione di rifarlo. Senz'altro, grazie a Merigo Varotti. D'altronde la provincia di Pesaro e Urbino, già di per sé, con queste due città che la caratterizzano nel nome, è una provincia straordinaria. Giustamente, ce l'ha detto il direttore, ConfCommercio è davvero presente in tutta la provincia con le sue iniziative. Lo dimostrano gli itinerari della bellezza e i weekend gastronomici, che peraltro sono una straordinaria occasione per mangiare bene davvero, perché da noi si mangia bene ma in maniera veramente straordinaria. Quindi, a Merigo Varotti, grazie. Buon futuro, buon 2023. Ci rivedremo presto in questi studi, perché siamo davvero contenti e curiosi di sapere come procederanno le cose. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi che ci avete seguito fino adesso. Buona serata a tutti. Continuate a seguire Rossini TV.